Musica Buonasera, ben ritrovati dall'informazione dei Vercelli Web TV, è lunedì 1 ottobre. Siamo alla settimana del concorso di Canto Viotti che si tiene a Vercelli ed avrà il suo culmine con la finale del prossimo sabato. Abbiamo incontrato il direttore artistico della Società del Quartetto, il maestro Piero Borgonovo, da sempre nella organizzazione del concorso internazionale. Maestro, lei ha detto che avere in città una città che crede in questo concorso è molto importante. Sì, è veramente molto importante, anche perché il concorso è noto in tutto il mondo. Non solo, ma il concorso ha una progressiva crescita di considerazione e anche di attrazione per i giovani di valore. In fondo ci sono tanti concorsi, si iscrivono tante persone. L'importante è che al nostro concorso si iscrivano quelli molto bravi, perché se si iscrivano quelli molto bravi vuol dire intanto che c'è una considerazione importante, ma vuol dire anche che il lavoro della giuria sarà complesso per scegliere, ma vuol dire anche che dal nostro concorso usciranno musicisti con un futuro assicurato. Un trampolino di lancio? Assolutamente sì, e anche a tanti livelli, perché è evidente che i concorsi di questo prestigio ci sono anche in alcune altre città del mondo. E noi apparteniamo a una categoria di concorso che è attrattivo proprio perché ha le sue doti fondamentali, il programma richiesto, la tipologia di esame e di quantità di prove per i candidati che lo mettono nel livello della fascia superiore dei concorsi internazionali. Voltiamo pagina, è iniziata giovedì scorso l'Istituto Tecnico Agrario Vincenzo Luparia di San Martino di Rosignano, la fase dedicata alla verifica dell'attecchimento degli innesti del vivaio Eternot, monumento dell'artista Gea Casolaro, composto da piante di Davidia involucrata e collocato da due anni al Parco Eternot, sorto sulle ceneri della fabbrica Eternit di Casale Monferrato. Nel 2017 gli innesti effettuati direttamente al Parco Eternot non erano riusciti, per questo motivo si è deciso di farli all'Istituto Luparia dove attualmente è andata a buon fine la totalità dei dieci innesti realizzati. Nei prossimi mesi il vivaio Eternot sarà quindi arricchito dalle prime dieci piante prodotte in loco. E ci si sta avvicinando alla partita della Nazionale Cantanti che si terrà a Vercelli il prossimo 28 di ottobre. Scopo dell'evento sarà di raccogliere denaro per nuovi apparati per il reparto di pediatria dell'ospedale Sant'Andrea di Vercelli. In cabina di regia tre associazioni vercellesi, vale a dire Alberto Dalmasso Onlus, Biud 10 e Maschere per sempre. Certo, noi siamo i più giovani, forse i meno esperti nel campo. Con questo progetto puntiamo a diventare grandi, come hanno già detto i due rappresentanti delle altre Onlus. Sicuramente l'unione fa la forza, stiamo imparando molto, credo tutti, non solo noi. La solidarietà, come riporta il nostro nome, nel carnevale fa bene, noi giriamo sempre case di riposo, centri dove purtroppo c'è qualcuno che ha meno fortuna di noi, cerchiamo sempre di strappare un sorriso. E l'associazione è nata per questo. Collaborando con la Biud 10 e con l'Albi del Masso Onlus, puntiamo a fare sempre e sempre di più, non solo per Vercelli ma anche per il territorio, anche perché noi, come è già stato detto da Matteo, e recupero una sua frase, noi siamo solo la punta dell'iceberg, di un enorme iceberg che è tutta la città, perché questo è un progetto non solo nostro ma di tutta la città. Ci fermiamo prima di parlare della ampia pagina sportiva. Il Tribunale federale nazionale ha respinto oggi i ricorsi di Provercelli, Novara, Siena, Catania e Ternana contro il blocco dei ripescaggi in Serie B, giudicandoli inammissibili. Ora potrebbe intervenire il Governo per porre fine alla vicenda. Nel frattempo ieri la Provercelli ha giocato per il campionato di Serie C in Liguria contro l'Albisola. Risultato 3-2 a favore dei Leoni di Mister Grieco. Sono contento del fatto che abbiamo iniziato, con delle difficoltà perché è un campionato dove nessuno ti regala niente, ogni sabato ci sono delle sorprese, vediamo anche le altre partite, quindi se non si va in campo con l'atteggiamento giusto poi rischia di fare brutte figure. Però ripeto, il risultato va di sopra di tutto, partire col piede giusto e le importanti, quindi ci prendiamo questi tre punti, sicuramente il mister ci farà vedere le cose positive e le cose negative e cercheremo di lavorare in settimana per farci trovare pronti per sabato. Nel campionato di calcio di Serie D perde il Casale per 2-1 in casa contro il Lecco. Questa è la prima sconfitta in gare ufficiali in questa stagione per il Casale di Mister Buglio. Perde anche il Borgosesia di Mister Dido, sempre in casa contro il Bra. Risultato finale 1-0. Guida la classifica e l'Ecco a punteggio pieno 9 punti, Casale e Borgosesia sono entrambe a 4 punti. Ma dispiace perché commentiamo risultato negativo e forse per quello che si è visto sul campo non meritavamo sicuramente la sconfitta. Però questo è il calcio e bisogna crescere anche da queste partite, avere la mente molto lucida, preparare la partita di domenica. Secondo me la squadra oggi ha fatto quello che doveva fare contro una squadra che si è difesa con 10-11 giocatori sotto la linea della palla. Quindi non era facile trovare soluzioni offensive. Le abbiamo trovate, abbiamo avuto le occasioni per pareggiarla e non ce l'abbiamo fatta. In eccellenza a Girone A si è giocato il quarto turno. Il derby vercellese tra Borgo Vercelli e Dell'Egitrino va ai primi che vincono 2-1. Male le altre vercellesi. Orizzonti perde in casa per 1-0 contro il Romentino Cerano, mentre l'Alicese viene superata in casa per 2-1 dalla Pro Eureka di Settimo Torinese. Abbiamo vinto quasi tre punti, però come prestazione un po' sottotono, tanti errori, una squadra un po' stanca. Probabilmente spero che l'obbligo di fare tre punti abbiano messo un po' di tensione ai ragazzi, ma non penso. È stata una giornata così, può capitare durante l'anno di non essere proprio brillanti e bravi e di sbagliare poco. Speriamo di domenica a Ciliano di ritornare a quelli che eravano mercoledì o l'altra domenica. Dobbiamo fare le partite rincorrendo la gente, perché per caratteristiche non possiamo permetterci. Dovremo sempre manifestare e giocare le nostre idee, però oggi non siamo stati bravi, soprattutto nel periodo della partita che contava di più. Chiaramente mi assumo le responsabilità e adesso in settimana vedremo quali saranno i giocatori che hanno capito il messaggio o che capiranno il messaggio per poterli schierare poi domenica col verbagno. Molto bene col calcio, con queste notizie del calcio chiude il nostro giornale che vi dà appuntamento a domani. Grazie per averci seguito, buona serata. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie per averci seguito, buona serata.